Ciao a tutti, nuova nell'arte per la rubrica dedicata agli animali. Questo mese sarà dedicata ai criceti, come mi è stato richiesto da una di voi nei commenti del video precedente. E pensando ai criceti mi è subito venuto in mente un cartone animato che guardavo quando ero piccola e che mi piaceva davvero molto, e cioè Antaro. Farò due personaggi, appunto Antaro e Bijou. Comincio applicando uno smalto trasparente su tutte le unghie, poi io faccio subito i personaggi ma voi potete applicare come base uno smalto celeste che ci sta davvero molto bene. Adesso con lo smalto bianco e con un dotter e con dei pennellini molto fini comincio a fare la sagoma del primo cricetino. Faccio la testa e poi le orecchie. Faccio la stessa cosa sull'anulare, creando il cricetino un po' di profilo. Mentre aspetto che le sagome dei cricetini si asciughino, in un pezzetto di carta forno metto un po' di arancione e un po' di giallo. Li unisco insieme con un dotter, cosicché si creeranno dei puntini bicolore. Per fare il centro dei fiori. Faccio quattro puntini sulla francia di ogni dito. Se voi volete fare i fiori più piccoli farete più puntini, se invece volete fare i fiori più grandi farete meno puntini. Adesso prendo lo smalto rosa e un dotter dalla punta fina e faccio dei petali intorno al puntino che ho fatto prima. Parto dall'esterno, appoggio il dotter e lo tiro verso il centro, così si crea un petalo. Faccio la stessa cosa con lo smalto giallo, infatti io alterno un fiore rosa, un fiore giallo, un fiore rosa, un fiore giallo. Adesso continuo con i cricetini. Con lo smalto rosa faccio l'interno delle orecchie di bijou. Poi con lo smalto lancione faccio la tipica macchia che ha sul muso Amtaro. Con lo smalto nero faccio due puntini al centro dei pupazzetti per creare gli occhi. Con lo smalto rosa faccio due puntini per creare i nasini. E con il rosa riempio anche le orecchie di Antaro. E poi con l'acrilico nero faccio tutti quanti i bordi del pupazzetto, appunto, sia dell'uno che dell'altro. Cerco di essere il più precisa possibile e fare delle linee più fine. Sempre con il nero faccio anche i baffetti. Con lo smalto blu e il dotter faccio due puntini al lato della testa di bijou per creare i fiocchetti. Adesso con il verde faccio delle piccole lignette tra i fiori. Questo passaggio potete farlo anche prima, che verrà sicuramente meglio. Come ultimo, con lo smalto bianco faccio tre puntini all'interno degli occhi per creare questi occhioni dolci. E come ultimissima cosa passo uno smalto trasparente su tutte le unghie. Spero tanto che questa analarte vi sia piaciuta. Se avete altre richieste scrivetemelo qui sotto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!